Lasciate un mi piace per far apparire Anto ed il nostro cagnolino Cosa? Il nostro cagnolino? Ciao a tutti, chiamo Aletti Ciao Saluta tutti? Sì, ha salutato tutti Ma adesso vi lanciamo una sfida Riuscite a trovare il nostro cagnolino nascosto in questa foto? Sembra molto difficile ma di sicuro ci riuscirete Eh sì, c'è la faccia del nostro cagnolino in questa foto Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno Cosa? Wow Avete trovato il nostro cagnolino nascosto? Ma siete super Oh, hai parlato? Ha detto bravissimi? Sì, il nostro cagnolino ha detto che tutti i diavoletti sono bravissimi Ma adesso vogliamo salutare, vogliamo salutare Eli Ciao Eli Ciao Eli, un bacione E commentate con un cuore rosso in tre secondi se volete essere salutati nel prossimo video In tre secondi, tre, due, uno Cosa? Siete bravissimi Ok, domani saluteremo qualcuno Ma oggi diavoletti non per caso il nostro cagnolino cosa indossa? Eh sì Un salvagente Sì, indossa un salvagente Perché adesso stiamo per immergerci in acqua con il nostro cagnolino Sarà il suo primo bagnetto, ti rendi conto? È super emozionante Vuoi far fare il primo bagnetto al nostro cagnolino? Certo, e allora perché indossa un salvagente? Ok Ok, andiamo in acqua Diavoletti, stiamo andando in acqua, stiamo andando in acqua E questo sarà il primo bagnetto del nostro cagnolino, non siete in ansia? Sì, certo che sì Vedrete il nostro cagnolino nuotare per la prima volta Wow Che carino Wow Sta nuotando Ok, sembra gli piaccia Sì, guarda come nuota, guarda come nuota Ok, adesso aiuto il nostro cagnolino Tieni la telecamera Ok Vinci, aiuta il nostro cagnolino a nuotare Oh diavoletti, il nostro cagnolino sembra un esperto, non credete? Sì, aspetta Vinci, lascialo, vediamo come nuota Wow Sì Il nostro cagnolino è proprio un vero esperto, vero? Dammi un bacino Oh, il nostro cagnolino? Ah, ma l'acqua Sì Guarda, mi ha dato anche un bacino Ok Il nostro cagnolino piace moltissimo l'acqua Ok Vinci, adesso allontanati e vediamo se il nostro cagnolino riesce a venire da me Ok, Vinci si sta allontanando Vinci si sta allontanando e io non vedo l'ora di vedere il nostro cagnolino nuotare Vai Hop, nuota Vieni qui Oh, il nostro cagnolino sta venendo Ci riuscirà? Sì, anche il salvagente è facile Oh, il nostro cagnolino è venuto Wow Ok Vinci, adesso tu allontanati Perchè? Allontanati Ah ok, vorresti far venire il cagnolino da me Vinci, schibi di toilet Dietro di te Vinci, ma non c'è nessuno dietro di te Ok, non ti lancio la sabbia soltanto perché hai in braccio il nostro cagnolino Altrimenti ti avrei lanciato tantissima sabbia Non parlo Perché abbiamo il nostro cagnolino in braccio Lo so, ma è stato uno scherzo di pessimo gusto Qui non c'è schibi di toilet Non dirlo mai più No, non c'è schibi di toilet Ok, ma adesso lascia il nostro cagnolino Secondo me vuole continuare a nuotare, non credi? Sì, il nostro cagnolino vuole continuare a nuotare Vinci, ho sentito qualcosa sotto i miei piedi Vinci i miei piedi Forse era un granchio? No, non era un granchio No, io qui sotto non controllo Adesso non immergo la mia telecamera qui sotto Ok, il nostro cagnolino secondo me deve uscire dall'acqua Deve uscire dall'acqua Ok Dai, ok Ok, il nostro cagnolino vuole uscire dall'acqua Perché forse ha sentito qualcosa lì sotto Sì, Vinci, era una mano Una mano? Io ho sentito una mano E se fosse una sirena? Cosa? Oppure potrebbe trattarsi di... Schibi di toilet? Schibi di toilet si nasconde sott'acqua? Sì, probabile Oh, il nostro cagnolino ha avuto molta paura Quindi è uscito Sì, in effetti Oh Oh, piaceva tanto al nostro cagnolino nuotare Ma poi improvvisamente è uscito di corsa Vinci Sotto quest'acqua c'è qualcuno? Sì, Vinci C'è un allarme C'è un allarme C'è un allarme Diamore, ti sentite l'allarme? Shhh Ascoltiamo cosa ha da dirci Attenzione Schibi di toilet è stato avvistato in quest'acqua Allontanatevi dal mare Attenzione Schibi di toilet è stato avvistato In quest'acqua Allontanatevi dal mare Bene Schibi di toilet Schibi di toilet La persona che ti ha toccato i piedi è Schibi di toilet? Sì, Schibi di toilet mi ha toccato i piedi sott'acqua Bene Quindi c'è Schibi di toilet che si nasconde sotto queste acque Questo sai cosa significa che dobbiamo andare subito a casa? Vinci, io non ci credo Io non ci credo Dai, andiamo in acqua Diavoletti Io non ci credo Secondo me Schibi di toilet non si nasconde qui? No Vorresti ritornare in acqua? Ok Secondo me non c'è Schibi di toilet Dai Hop, vieni qui Spero tanto che tu abbia ragione Ok Vai Hop Il nostro cagnolino deve venire qui Sì Vieni Hop, vieni Challenge, challenge Oh, sei bravissimo È super bravissimo Fate tutti un applauso al nostro cagnolino Ok, Yanto Ma io ho davvero paure se qualcuno mi toccasse i piedi Vieni E se Schibi di toilet Toccasse i miei piedi Vinci, Schibi di toilet Non si nasconde qui sotto Secondo me è una bugia È una bugia Allontanarti Vinci, non allontanarti Non allontanarti Perché potrebbe esserci Schibi di toilet Tu hai detto che non c'è nessuno qui sotto Vinci, il nostro cagnolino vuole continuare a nuotare Non disturbare il nostro cagnolino Bene Dai Hop, vieni da me Vieni, vieni Hop, vieni Dai Ma dov'è il nostro cagnolino? Vi avresti? Qualcuno ha tirato il nostro cagnolino sott'acqua Cosa stai dicendo? Ehi Ma Oh Alto controlla Dov'è il nostro cagnolino? Era proprio qui in questo salvagente Ma adesso questo salvagente Non ha più il nostro cagnolino Cosa? Il nostro cagnolino non è più in questo salvagente Ma chi ha tirato il nostro cagnolino sott'acqua? Chi è stato? Vinci Ha tirato sott'acqua da qualcuno E noi non sappiamo da chi Usciamo Diavoletti, dobbiamo uscire Dov'è il nostro cagnolino? Adesso è in fondo al mare? Oh no, cosa stai dicendo? Questo è terribile Ma non c'è nessuno in acqua? Sono tutti andati via? In quest'acqua è stato avvistato Schibi di Toilet Non è che Schibi di Toilet ha rapito il nostro cagnolino? Tu dici che Schibi di Toilet ha portato in fondo al mare il nostro cagnolino? Oh Chi ha tirato il nostro cagnolino sott'acqua? Ok Chi è stato? Non lo so, ma di certo qualcuno ha tirato il nostro cagnolino sott'acqua Ehi Perché cerchi qualcosa dall'iPad? Vinci, forse io posso chiamare i soccorsi e posso Far aiutare il nostro cagnolino che adesso si trova chissà dove sotto quelle acque Sì Ok, bene Sto chiamando Cosa? Ciao Vinci Cosa? Io ho rapito il vostro cagnolino Schibi di Schibi di Toilet Sei sempre tu Andate a controllare sott'acqua Sott'acqua? No Io mi farò vedere solo per dieci secondi Cosa? No Io ho paura Vinci Ok, quindi Schibi di Toilet ha detto che dobbiamo andare a controllare sott'acqua Ma sai che in acqua non c'è anima viva Io non voglio andarci Vinci Ma il nostro cagnolino è sott'acqua Dai andiamo Ok Andiamo a controllare Schibi di Toilet sott'acqua Ok, quindi diremo a Schibi di Toilet di liberare il nostro cagnolino, bene Andiamo subito sott'acqua Quindi la nostra missione La nostra missione è cercare Schibi di Toilet perché si nasconde sott'acqua E dire a Schibi di Toilet di liberare il nostro cagnolino una volta per tutte Quindi se vedete Schibi di Toilet avvisateci Sì perché gliene dobbiamo dire quattro Bene Schibi di Toilet stiamo arrivando Non abbiamo paura di te Beh io un po' sì Vinci, siamo sicuri di voler entrare in acqua? No Vinci dai vieni C'è Schibi di Toilet lì sotto Ok ma c'è anche il nostro cagnolino No, lo colpiremo con la sabbia così No, quando sei sott'acqua la sabbia non ti colpisce Beh è una lunga storia Ma l'importante è salvare il nostro cagnolino Che adesso si trova chissà dove qui sotto insieme a Schibi di Toilet Quindi dobbiamo andare Vinci, entriamo dentro l'acqua Entriamo dentro l'acqua Sì, è l'unica soluzione Ok Schibi di Toilet stiamo arrivando Vinci, adesso io Metto la telecamera sott'acqua E diavoletti, se voi vedete Schibi di Toilet urlate Eh sì Davoletti urlate così ci farete capire che qui sotto c'è Schibi di Toilet Ok, fra 3, 2, 1 Io metterò la telecamera sott'acqua Sì, pronto 3, 2, 1 C'è Schibi di Toilet qui sotto? Adesso, adesso vai No, Vinci Schibi di Toilet Vinci scappa Schibi di Toilet è proprio nell'acqua Diavoletti si è fatto vedere Quindi Schibi di Toilet ha rapito il nostro cagnolino? Schibi di Toilet si trova sotto queste acque L'abbiamo visto tutti Sì, Schibi di Toilet si trova proprio lì sotto Ma cosa ci fa lì sotto? Cosa ci fa lì sotto? Lì sotto c'è anche il nostro cagnolino Noi dobbiamo fare qualcosa Ok, Vinci Andiamo a parlare con Schibi di Toilet Vieni Sì Ok Oh no, è terribile Il nostro cagnolino adesso si trova insieme a Schibi di Toilet Diavoletti, avete visto tutti Schibi di Toilet? Si nascondeva sott'acqua Sì Ok Schibi di Toilet Come possiamo salvare il nostro cagnolino? Il nostro cagnolino stava solo nuotando in santa pace Stava solo nuotando, aggiungerei, per la sua prima volta E tu hai rovinato tutto, rapendo il nostro cagnolino insieme al suo salvagente No, il salvagente ce l'abbiamo noi Ma hai rapito il nostro cagnolino Ok, Schibi di, per favore, dacci un messaggio Dici di più Avete visto? Sì Sono io sott'acqua Che abbiamo visto tutti Adesso dovete fare delle sfide per salvare il vostro cagnolino Sì, dai, dici di più Le sfide sono molto difficili Non ci interessa, dici Volete iniziare? Sì Va bene Siete determinati Cosa? Molto La prima sfida è trovare tutte le formine rare nascoste in questa spiaggia Formine rare? Ok Le formine rare nascoste in questa spiaggia Formine rare, sapete cosa sono le formine, diavoletti? Queste? Sì, queste formine Ma ci sono delle formine rare nascoste in questa spiaggia? Scribi di toilet ha detto che ci sono Quindi se Scribi di toilet ha detto che ci sono Le formine ci sono E tocca a noi cercare tutte le formine Quindi adesso mettiamoci alla ricerca, no? Ok Vinci sta andando Vinci sta andando a cercare le formine Vinci Ma se non trovassimo mai le formine rare? Il nostro cagnolino resterebbe per sempre con Scribi di toilet Ma non possiamo pensare Non possiamo pensare a tutto questo Noi troveremo le formine rare Vinci Vinci Che c'è? Ma anche tu vedi Scribi di toilet? È uscito dall'acqua Cosa? È sulla riva? Oh no, 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 no Diavoletti, guardate Scribi di toilet è proprio lì Aiuto Ok Si sta avvicinando Vinci Noi abbiamo poco tempo per salvare il nostro cagnolino E dobbiamo cercare quelle formine Alzaci Scribi di toilet Potrebbe venire qui E potrebbe rapirci Dobbiamo iniziare a cercare Sbrigati Ok Sbrigiamoci Forse si nascondono sotto la sabbia Sì, ma il problema è che la sabbia è mega gigante È enorme Come faremo a trovare le formine? Ma non ci interessa Dobbiamo continuare Ok Cerchiamo qui sotto No, non cerchiamo nello stesso punto Anto Tu vai da quella parte Io resto qui Ok, Vinci Vai a cercare da quella parte Ok, Vinci sta cercando Vinci sta cercando Che c'è? Qui Vinci, ma io stavo andando a cercare No, vieni adesso subito qui Ho visto qualcosa Cosa ho visto? Non lo so, c'è qualcosa Vedi anche tu due occhi? Vinci ha visto qualcosa? Vinci, non toccare Non toccare Potrebbe essere Scribi di toilet Questa è una formina No Vinci Cosa? È una formina Ma aspetta Che cos'è? È la pecora di Peppa Pig Oh, ok Vinci Adesso secondo me Dobbiamo fare questa formina Sì, tu dici che dobbiamo fare questa formina Prima di andare a cercare le altre forme? Sì, dai Ok Vinci, sbrigati, sbrigati Io stavo andando a cercare Vinci, attenzione È sulla riva C'è Scribi di toilet Prima l'abbiamo visto E potrebbe rapirci Adesso è ritornato sott'acqua Perché qui non c'è più Ok, ma abbiamo poco tempo Scribi di toilet Potrebbe uscire dall'acqua E potrebbe rapirmi Dai Vinci, fai vedere a tutti la formina molto rara Diavoletti, non avete ansia? Io molta Guardate questa formina Guardate questa formina Ok Vai Vinci 3, 2, 1 Cosa? Vai Vinci, vai Ok Wow La sabbia? Un personaggio di Peppa Pig sulla sabbia Non l'ho messo Vinci Vinci Ok, dobbiamo andare a cercare le altre formine Dobbiamo andare a cercare le altre formine Ok Vinci Secondo me non si nascondono sotto la sabbia E dove dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare In qualche Sì, in qualche posto segreto Dai, vieni con me Che ho visto Ho visto Un posto molto sospetto? Sì, ho visto un posto molto sospetto Andiamoci subito Vinci, ma io voglio salvare il nostro cagnolino Perché mi manca molto Anche a me manca molto il nostro cagnolino Ma non possiamo restare qui a parlare Dobbiamo cercare le formine Vinci Allora, vieni qui, avvicinati Ma questa è una tenda Potrebbe viverci qualcuno qui dentro Vinci, avvicinati No, ho molta paura Vinci, guarda Vieni qui Ok Ho notato una cosa molto sospetta Qui c'è un buco Un buco molto sospetto Aspetta E se Schibi di Toilet Avesse fatto questo buco Per intrufolarsi in questa tenda E nascondersi da noi Ok, Vinci E se qui dentro ci fosse anche il nostro cagnolino Siediti, Vinci Oh no Vieni Ho veramente molti dubbi Ok, siediti Vinci Questo buco è molto sospetto Sì, qui dentro potrebbe esserci qualcosa Ma io ho veramente molta paura Di mettere la mano dentro Esatto, anch'io Ok, potrebbe esserci Schibi di Toilet Sì, proprio così Andiamo via No, Vinci Controlliamo Perché io voglio salvare il nostro cagnolino E basta, dai, vieni Ok, allora Hai il coraggio di mettere la tua mano qui dentro Attenzione Ah, Vinci Qualcuno mi sta attirando Ok, Vinci Che mi di Toilet Ti aiuto Cosa? Vinci, ma aspetta Ho visto qualcosa Eh, diavoletti Vedete anche voi una formina qui dentro Aspetta Un muso molto conosciuto Vinci Sì, ti ricordo Che dobbiamo trovare le formine Per salvare il nostro cagnolino Sì, e questa sembra essere proprio una formina molto conosciuta Secondo me devo inserire la mia mano No, Vinci, no Prendiamo la formina che si nasconde in questa tenda Eh Cosa? Cosa? Vinci No È Peppa Pig Peppa Pig Che cosa ci facevi in questa tenda? Ok, ma è molto rara questa formina Vinci Ok Adesso dobbiamo andare subito a costruire questa formina con la sabbia Sì Vinci, ma quante formine ci sono? Ci sono tantissime formine nascoste in questa spiaggia Spero non troppe formine Altrimenti il nostro cagnolino resterebbe con schibi di toilet per sempre Ok, facciamo anche questa formina E Oh Io ho veramente molta paura Vinci, dai, metti la sabbia qui dentro Adesso stiamo per fare la formina di Peppa Pig Ma Anto Tu guardami le spalle Perché schibi di toilet potrebbe uscire dall'acqua da un momento all'altro Ok, quella persona è dentro l'acqua Ma non sa che schibi di toilet si nasconde in questa spiaggia Proprio in questa spiaggia Sì, dovrebbe saperlo Ok Perché questa è una spiaggia speciale Sì, è una spiaggia molto speciale Ok, diavoletti, ma preparate Perché adesso Con tutto questo drama Con tutta questa ansia di recuperare il nostro cagnolino Adesso vedrete tutti la formina di Peppa Pig Vai Vinci Sì, non l'ho mai vista prima d'ora Ok, la formina di Peppa Pig Come sarà? Non lo so 3, 2, 1 Aspetta Oh, Vinci che ansia Io non vedo l'ora di vedere Preparatevi Preparatevi 3, 2, 1, via Vinci è proprio Peppa Pig Non l'ho mai vista questa formina prima d'ora Ok No, Vinci Secondo te si nasconde sotto la sabbia Bene, cerchiamo Ok Tu cerca lì Vinci, sto controllando sotto la sabbia Ma non c'è niente Ok, almeno qui non c'è niente Il nostro cagnolino Vinci, il nostro cagnolino Mi manca molto Sì, ma non possiamo abbatterci Non abbatterti La sabbia non si lancia così Dai, Anto, alzati Non possiamo restare qui ad abbatterci Oh, mi manca il nostro cagnolino No Guarda Qui c'è uno scrigno Sì, vedi? Cercando si trovano sempre cose misteriose Vinci No Ok Si prende la scossa Quando cerchi di toccare questo scrigno Vinci, aspetta Vedi? Perché si prende la scossa? Non lo so Sembra qualcosa di molto magico Che non può essere aperto Chissà perché Ok, diavoletti Oh no E se qui dentro si nascondesse una formina Ci pensi? Potrebbe essere probabile Vinci Dentro questo scrigno Si nasconde qualcosa Si nasconde qualcosa Anche tu credi che si nasconda una formina? Sì Si nasconde qualcosa di molto magico E noi dobbiamo scoprirlo Noi abbiamo bisogno Noi abbiamo bisogno Di quello che c'è qui dentro Quindi adesso come facciamo ad aprire questo scrigno Se ogni volta che cerchiamo di toccare questo scrigno Si prende la scossa Si prende la scossa Ok, scrigno Come facciamo ad aprirti? Ditemi come si chiama il vostro cagnolino Ditemi come si chiama il vostro cagnolino? Questo scrigno parla? Forse quando diremo il nome del nostro cagnolino Questo scrigno si aprirà in automatico Bene alto dai tocca a te Il nostro cagnolino si chiama Hop Cosa? Vinci? Si è aperto Lo scrigno si è aperto E dentro c'è soltanto un gioco del nostro cagnolino Vinci? Non è una formina Non è un gioco Vinci? È una formina A forma di osso È molto rara Questa formina non l'ho mai vista Prima d'ora è una formina a forma di osso Andiamo subito a costruire Ok vai sbrigati Vinci Sbrigati Ok questo scrigno è stato molto utile Ok diavoletti No Vinci è già lì E sta mettendo la sabbia dentro la formina Vinci sbrigati Schibi di toilet si sta avvicinando Guarda Schibi di toilet è proprio lì Ok Non ci ha visti Non ci ha visti Vinci dai Abbiamo tempo da perdere Ok stai mettendo la sabbia? Si Ok Vinci sta mettendo la sabbia dentro la formina Giavoletti siete pronti a vedere un osso fatto di sabbia Wow Vai Super bellissimo Vai Al nostro cagnolino Piace tantissimo questa formina Ma adesso non c'è Wow Super bellissimo Non ho mai visto un osso così fatto bene Si un osso fatto di sabbia Un osso per cani fatto di sabbia Mi viene quasi voglia di giocarti con quest'osso Non credi? Si E' super bellissimo Bene ma non possiamo No Vinci ma perché rovini sempre tutte le formine? Non le conserverò per dopo ma adesso Ok Pensare a salvare il nostro cagnolino Vinci io ho un'idea Ho un'idea Si hai visto qualche altra formina per caso? No Andiamo a cercare lì dentro Vieni Andiamo a cercare lì dentro Lì proprio dove c'è il sole? Ok Vieni ho visto qualcosa Ho visto qualcosa Spero che si tratti di una formina E non si tratti di schibi di toilet No Vinci Io in quel cestino prima Ho visto qualcosa Quello è un cestino E ho visto qualcosa di molto raro Bene Avviciniamoci Vinci vieni In quel cestino ho visto qualcosa Adesso dobbiamo stare molto attenti Perché guarda Quel cestino è bianco Proprio come schibi di toilet Quindi schibi di toilet potrebbe essere lì dentro nascosto Ok quindi schibi di toilet potrebbe mimetizzarsi lì dentro Ok Vinci piano piano Un passo alla volta e ci avviciniamo Un passo alla volta e ci avviciniamo Cosa? Vinci hai visto? C'è una formina dentro questo cestino Cosa? Ok cerco di prenderla Allontanati Ok Attenzione Oh ho preso la formina Guarda ho preso la formina Sì ma questa formina mi fa ricordare il nostro cagnolino Quindi non è per niente di aiuto Ok Vinci Dobbiamo trovare tutte le formine rare Nascoste su questa spiaggia È una sfida di schibi di toilet Quindi dai Vinci non piangere Non piangere Dai metti la formina Metti la formina sulla sabbia Dai sbrigati E se non trovassimo mai tutte le formine nascoste su questa spiaggia? Diavoletti sono molto Molto triste Oh È molto difficile trovare le formine Qui dentro non c'è nessuna formina? No E non si nasconde neanche niente sotto questa sabbia Niente di niente Ok Vinci sto arrivando E se schibi di toilet si nascondesse dietro di me? Diavoletti Schibi di toilet è dietro di me? Avvisatemi eh Ok non c'è niente Non c'è niente Ok Vinci sta facendo la formina Vinci sta facendo la formina Il nostro cagnolino è stato proprio rapito Vinci Sono caduto Ok Sì Vinci Ok La formina è quasi pronta Vi stavo aspettando 3 2 1 Dai Wow Mi ricorda la zampa del nostro cagnolino È proprio la zampa del nostro cagnolino Wow Ok Vinci questa non romperla No anzi La copro con delle alghe Così nessuno potrà rovinare questa formina Quante altre formine dobbiamo trovare? Non lo so Ne sono ancora tantissime Sì Vinci C'è un avviso Un avviso Dovete trovare l'ultima formina per vincere la sfida L'ultima formina? Dobbiamo trovare l'ultima formina? Bene Non abbiamo tempo da perdere Corri Vinci Una formina Ho trovato una formina Guarda È di colore verde Eh? Vinci ma che cos'è? Non è una formina No Non si tratta di una formina Ok Dobbiamo trovare l'ultima formina quindi? Ok Chissà di che forma è Vinci Forse Vinci aspetta Forse qualcuno ha visto l'ultima formina? Ehi tu piccione Hai visto l'ultima formina? Forse ci guiderà dall'ultima formina? Ok Seguiamo questo piccione Stiamo seguendo questo piccione Forse ci sta portando dall'ultima formina? Sì Ci sta portando dall'ultima formina Piccione dove vai? Oh non volare via! Cosa? Perché ci ha portati qui? Abbiamo fatto tutta questa strada per nulla Vinci Il piccione ci ha portati qui Magari si nasconde qui l'ultima formina? No il piccione è venuto qui Soltanto perché gli andava di venire qui E noi abbiamo seguito quel piccione Ma Per niente Ok Vinci Ma questo baule? Vedi anche tu questo baule? Aspetta io vado a controllare lì C'è qualcosa lì Vinci No Dobbiamo aprire questo baule Non è che si nasconde schibi di toilet in questo baule? Vinci No quella è soltanto una pallina Sì è una pallina No non lanciarla Ok Vinci Hai trovato una pallina Non una formina Questo che cos'è? Un secchiello mega gigante Ma non è una formina È dentro Non si nasconde una formina Fammi vedere No dentro non c'è niente Anche questo secchiello Fai vedere In questo secchiello rosa non c'è niente Niente di niente Bene Quel baule è molto sospetto Il baule di cui parlavi Ok Questo baule Potrebbe nascondersi qualcosa Non credi? Vinci non è che schibi di toilet Si nasconde in questo baule Aiuto Oh no Quindi non voglio avvicinarmi Ok Vinci Dai Piano piano Noi apriamo questo baule Vieni Dai Ok Diavoletti Sei proprio sicuro di quello che stai per fare Se schibi di toilet Usse da qui E ci rapisse entrambi Dopo come faremo a salvare il nostro cagnolino? Saremo tutti e tre rapiti Vinci ok Adesso dobbiamo salvare il nostro cagnolino Quindi apriamo questo baule Tutti insieme Ok diavoletti 3 2 1 In questo baule Vinci Una formina Una formina Una conchiglia formina Chiudiamo questo baule perché sento qualcuno Ok Vinci Abbiamo trovato l'ultima formina Quindi adesso tutto quello che dobbiamo fare è mettere questa formina sulla sabbia E poi schibi di toilet ci ridarà il nostro cagnolino secondo te? Ok Vinci Purtroppo ci sono tantissime sfide per salvare il nostro cagnolino Quindi Ma almeno siamo già ad un passo Quindi adesso andiamo subito a creare questa formina Dai Questa formina non l'ho mai vista prima d'ora e voi? No mai È una formina conchiglia Io non vedo l'ora di vedere questa conchiglia sulla sabbia Ok Vinci Stai riempendo la conchiglia con la sabbia? Sì Ci siamo quasi Fammi vedere Fammi vedere Adesso vedremo tutti questa conchiglia? Sì Vai Vinci Sbrigati Non abbiamo tempo Sì Ok Non vedo l'ora Non vedo l'ora Wow È una conchiglia? Sì È qui sotto Guardate cosa c'è Vinci Oh Ancora la zampa del nostro cagnolino? Tocchiamo la zampa Ok Vinci Abbiamo completato tutte le formine Abbiamo completato tutte le formine Quindi adesso cosa ci tocca fare? Non lo so Schibidi Toilet si nasconde ancora sott'acqua Si nasconde sott'acqua E noi dobbiamo salvare il nostro cagnolino Sì Che all'improvviso è stato preso Esatto Ok Vinci L'iPad Dov'è l'iPad? L'iPad potrebbe darci qualche notizia Adesso che abbiamo completato la sfida Schibidi La seconda sfida Volete saperla? Sì Qual è la seconda sfida secondo voi? Beh non possiamo saperla Stare vicino alla riva Eh? Ok C'è qualcosa per voi Va bene Vinci La riva c'è qualcosa per noi Ha detto Schibidi che vicino alla riva c'è qualcosa per noi Quindi corriamo Vinci Ma che ha messo questa tabella qui? Beh credo proprio che si tratti di Schibidi Schibidi Toilet è uscito dall'acqua E ha messo questa tabella sulla riva Esatto Proprio così Ma perché qui ci sono dei numeri? Non lo so ma qui manca qualcosa Il numero 8 Ok C'è il numero 0 1 2 3 4 5 6 7 E 9 Ma perché manca il numero 8? Sì ci sono tantissime paperelle Ma manca il numero 8 Ok Vinci Ok Forse questo è un enigma Vinci ma cosa dobbiamo fare con questa tabella? Non lo so Questa tabella è molto strana Manca un numero Ma noi cosa dobbiamo farci? Ok Schibidi Schibidi Abbiamo trovato la tabella che hai messo vicino alla riva Dovete trovare il numero mancante Cosa? Il mio numero preferito Il numero 8 Cosa? Il numero preferito di Schibidi? Quindi qui manca un numero Per lo più è il numero preferito di Schibidi E per lo più dobbiamo trovare anche questo numero Non soltanto le formine Anche il numero preferito di Schibidi? Vinci se vogliamo salvare Se vogliamo salvare il nostro cagnolino Dobbiamo trovare il numero preferito di Schibidi Toiletti Il numero 8 Quindi mettiamoci qui e cerchiamo sotto la sabbia Vinci sotto la sabbia non c'è niente Allora dove ha intenzione di cercare il numero 8 Perché abbiamo visto tutta la spiaggia E nessuna traccia di un numero 8 Tu hai visto un numero 8 Vinci ma sotto la sabbia non c'è niente Guarda ci sono solo conchiglie Ma niente Chiglie Sassolini e sabbia Sì sabbia Vinci non lanciare la sabbia Ok Andiamo a cercare Andiamo a cercare da quella parte Da quella parte non siamo andati Bene Anto forse il numero 8 si Sotto la sabbia non c'è niente No abbiamo provato a cercare sotto la sabbia Non c'è niente Ok stai cercando in un modo molto insolito Mi piace Vinci voglio salvare il nostro cagnolino Vieni Anch'io voglio salvare il nostro cagnolino Ed è per questo che ti sto dicendo Vieni un attimo qui Magari Ho trovato il numero 8 guarda Scherzetto non c'è niente Vinci dai vieni a cercare il numero 8 con me Guarda cosa ho visto qui Cosa hai visto? Forse il numero 8 si nasconde qui dentro Vinci ma prima c'era la formina E forse adesso c'è il numero 8 Controlliamo No Vinci non c'è niente Ok Vieni da quella parte perché ho visto Un posto molto sospetto Ok Sì Prima hai detto che hai visto un cestino molto sospetto Vinci Vinci guarda Schivi di toilet Perché su quella casetta? Che ci sta fissando Forse sto aspettando che noi troviamo il suo numero preferito Ok Vinci dobbiamo sbrigarci Dobbiamo salvare il nostro cagnolino Quindi sbrigati Dobbiamo sbrigarci Corri Vinci guarda Questi sono molto sospetti Sono tappeti? Sì sono tappeti Ma sono arrotolati Forse in questi tappeti si nasconde il numero 8 Bene ma possiamo guardare con la telecamera Diavoletti voi aiutateci vedete il numero 8 da qualche parte? No qui dentro non c'è niente I diavoletti mi dicono che hanno visto qualcosa proprio qui Vinci attenzione ci sono delle spine Il numero 8 si nascondeva qui dentro e mi sono fatto anche male Attenzione queste spine sono molto pungenti ma noi abbiamo trovato Ok il numero 8 il numero preferito di Schibidi Vinci Schibidi Toiletti è andato via guarda era proprio lì Forse perché abbiamo trovato il suo numero preferito Forse prima si stava arrabbiando Oh no avrebbe Schibidi Toiletti è in acqua Guarda Schibidi Toiletti è in acqua Diavoletti guardate c'è qualcosa in acqua Anche voi vedete qualcosa? Vinci è Schibidi Toiletti? Sì laggiù guarda Vinci no è soltanto un uccello È un uccello perché in acqua? Forse perché si sta rilassando bene Ma sembravi proprio Schibidi Oh ci ha illusi Ok Vinci la tabella abbiamo dimenticato la tabella Ok inseriamo il numero 8 Vinci abbiamo completato la tabella Ok ma qualcosa mi dice che non è finita qui Vinci ma io voglio salvare il nostro cagnolino Dov'è Hope? Non lo so è insieme a Schibidi Toiletti Schibidi Toiletti non ci ridarà il nostro cagnolino Fin quando noi non vinceremo tutte le sfide Ok Vinci Dov'è l'iPad? Dov'è l'iPad? Ok dobbiamo salvare Hope Quindi Schibidi Schibidi noi non possiamo restare tutta la notte sulla spiaggia Esatto abbiamo trovato il tuo numero preferito E lo abbiamo anche rimesso al suo posto Adesso dici di più cosa ci tocca fare? Qual è l'ultima sfida? Schibidi Schibidi Cosa? Schibidi? E' ancora sotto Adesso dovete fare l'ultima sfida Cosa? Dovete trovare il cibo più raro nascosto su questa spiaggia Il cibo più raro? Ora? Eh? Ora? Avete solo 5 minuti di tempo Abbiamo un limite Eh? 5 minuti per trovare il cibo più raro nascosto su questa spiaggia? Quindi abbiamo del tempo e adesso il timer sta anche scadendo 4 minuti e 50 Vici abbiamo Sì Abbiamo pochissimo tempo Abbiamo 5 minuti di tempo per salvare il nostro cagnolino Ma adesso non sono più 5 minuti Sono 4 minuti e 40 quindi dobbiamo sbrigarci Ma dov'è il cibo più raro nascosto su questa spiaggia? Oh no adesso il cibo raro potrebbe nascondersi anche sotto la sabbia Ma noi Oppure sott'acqua? No sott'acqua non credo ma sotto la sabbia Sarà molto difficile trovare il cibo Vai Vinci inizia a cercare lì Inizia a cercare lì Ok Vinci sta iniziando a cercare sotto la sabbia Guardate sta cercando sotto la sabbia Non c'è niente Non c'è niente Controlla in un'altra zona Ok sta controllando in un'altra Non c'è qui Neanche qui? Vinci controlla in tutte le zone Dobbiamo trovare il cibo più raro Non c'è qui niente Cambia zona Ok sta cambiando sempre zona ma non c'è niente sotto la sabbia Dobbiamo trovare il cibo più raro di questa spiaggia In soli 3 minuti e 50 Aiuto Sbrigati Vinci Sbrigati Hai trovato qualcosa? Eh? Ho il tranto sabbia Aiuto Vinci manca poco tempo Manca poco tempo Secondo me mancano meno di 3 minuti e noi non abbiamo Certo Vinci Guarda quel secchiello rosa Prima non era lì Forse qualcuno ha nascosto qualcosa lì sotto Bene Ci tocca controllare Ok andiamo a controllare Andiamo su Vinci non cadere Dobbiamo controllare Pronto? Sì sono pronto Sotto questo secchiello rosa si nasconde qualcosa Popcorn Vinci Non semplici popcorn Popcorn arcobaleno Sì stiamo trovando il cibo raro Vinci vuoi provare questi popcorn? Sì Dobbiamo trovare altro cibo Il secondo cibo lo troverò io Lo troverò io Lo troverò io Per il nostro cagnolino Lo hai già visto? No Non l'ho visto Ok Controlla lì sotto Sì Controlla qui sotto Controlliamo Diavoletti aprite bene gli occhi Oh i miei occhiali Ok Non intendevo che voi doveva Vinci Questo è cibo? Sarà un lucchetto Anto Questa sarà cinesca e chiusa Vinci aspetta Cosa? Cibo? Queste sono delle caramelle cristallo? Ma sembrano dei cristalli Invece sono Vinci prova Vinci è una caramella? Ha il gusto di fragola Ok è del cibo molto raro? Oh Vinci quindi abbiamo trovato delle caramelle fatte di cristallo? Ok abbiamo trovato tantissimo cibo raro Ma adesso andiamo a controllare l'iPad Andiamo a controllare l'iPad Perché io voglio salvare il nostro cagnolino Corri Cosa? Schibi Il vostro cagnolino è nella stanza del vostro hotel Andate subito nella vostra stanza Ha bisogno di voi Ciao ciao Schibi Ci ha salutati Dobbiamo ritornare subito in stanza Perché c'è il nostro cagnolino Ha bisogno di noi Diavoletti Non vedete l'ora di vedere il nostro cagnolino vero? Io non vedo assolutamente l'ora Corri Corriamo Ok Siamo in stanza Dove sei? Cosa? Il nostro cagnolino è proprio qui fuori Che carino Che carino Vieni Abbracciaci Non vedete l'ora di vedere il nostro cagnolino vero? Allora di noi Siamo in stanza Siamo in stanza